Si è svolto ieri su richiesta della Filcams CGL un incontro con il sindaco di Gela Domenico Messinese per affrontare le problematiche delle lavoratrici della società che gestisce il servizio delle pulizie di tutti gli immobili del comune. La società il cui contratto scadrà domani, scrive in una nota inviata alla stampa Emanuele Scicolone, segretario generale Filcams CGL, ha comunicato su indicazione del comune che avrà una proroga del servizio con una riduzione di due giorni la settimana. Il sindaco si è impegnato su richiesta della Filcams CGL a fare ritirare l'atto e incontrerà la ditta lunedì al fine di comunicare che il servizio non sarà modificato. La Filcams CGL ha presentato anche le questioni che già dal mese di aprile costringono i lavoratori che svolgono il servizio di pulizie cimiteriali e tumulazione a cui sono state ridotte le ore lavorative da 3 a 1, scelta che sarebbe dovuta essere momentanea in attesa del nuovo bando, producendo gravissimi problemi di sopravvivenza. Anche per questa situazione, scrive ancora Emanuele Scicolone, il sindaco ha promesso di intervenire personalmente per capire le ragioni che hanno spinto il dirigente a lavorare sul nuovo bando di gara che non è stato ancora completato e darà una risposta riconvocando la riunione entro la fine di agosto. Va precisato, leggiamo ancora nel documento, che parliamo di lavoratrici e lavoratori che percepiscono meno di 500 euro. La CGL prende atto degli impegni assunti dal sindaco e vigilerà finché logiche meramente economiche non prevalgano sulle legittime esigenze di sopravvivenza dei lavoratori. In caso contrario, la CGL metterà in atto tutte le iniziative più opportune per tutelare adeguatamente i legittimi diritti dei lavoratori. Il sindacato dalla Confederazione alle categorie non entra nel merito dei rapporti tra potere politico e potere amministrativo e cioè tra sindaco e dirigente della ripartizione. Una cosa è chiara, la questione da noi sollevata va risolta sia per i lavoratori che per la collettività, conclude il dirigente sindacale delle sigle Filcam CGL.